Io sono Carlo Lavagna e sono il regista di Arianna, che è la mia opera prima. È un film che parla di una ragazza intersessuale che non sa di esserlo. E quindi è un film che parla di identità, che parlando pure di un tema così specifico, spero possa essere, diciamo, arrivare in maniera un po' più universale a tutti, perché poi di identità, io almeno mi sono sempre interrogato da quando sono piccolo e penso che anche le persone possano trarne una riflessione, uno spunto di riflessione. Secondo me è importante che si creino dei circuiti alternativi di distribuzione a tutti i livelli, quindi sia supportati dagli autori stessi, per esempio cercare di creare una rete su base autoriale in modo tale da difendere poi anche gli autori quando cresceranno nel tempo, quindi creare magari dei circuiti alternativi. e questa, mi sembra, del cinema nelle biblioteche, è la situazione ideale per mostrare, secondo me, film che non riescono magari a uscire nelle sale o anche film che sono usciti nelle sale ma che per ragioni magari di mercato vengono tenuti due o tre settimane e poi vengono tolti e non si lascia neanche il tempo di creare un passaparola intorno a dei film.